E' giusto sostituire il commissario Enrico Rossi, non ha scuse, non ha svolto il ruolo come avrebbe dovuto e potuto. Ma non è stato purtroppo l'unico, è stata assente anche la ministra De Micheli. A riaccendere i riflettori sul ponte di Albiano Magra, crollato lo scorso 8 di aprile, è il deputato di Italia Viva Cosimo Maria Ferro. Ringrazio invece i cittadini, ha aggiunto l'esponente Renziano, per la pazienza e la dignità con cui stanno affrontando le tante difficoltà. E ora al lavoro, vogliamo vedere i cantieri, le rampe e il disco verde per la realizzazione del ponte definitivo. In effetti mesi passano e non è stato provveduto neanche alla rimozione dei detriti nei giorni scorsi sommersi dalla prima piena autunnale del fiume. L'appello di Cosimo Maria Ferri è stato fatto proprio anche dagli azzurri Erika Mazzetti, membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, e Massimo Mallegni, coordinatore regionale di Forza Italia e componente della Commissione Lavori Pubblici ed Infrastrutture. Abbiamo letto con piacere le dichiarazioni del collega di Italia Viva. Giusto sostituire i rossi, hanno ribadito gli onorevoli di Forza Italia. Non ha svolto ruolo come avrebbe dovuto e potuto. Ci auguriamo che il nuovo governatore Gianni hanno concluso. Sappia agire ascoltando anche la voce dei residenti e delle categorie economiche che hanno le idee chiare su quanto va subito fatto senza perdere altro tempo. Fino ad oggi nulla e nessuno ha fatto qualcosa. Sta finendo il 2020 senza che ancora si sappia con certezza se i lavori inizieranno prima di dicembre.